Amici del canale, buonasera dal vostro Lino Juventus, se appena con voi sei Juventus benfica, è inutile girarci intorno. L'unico modo per sistemare adesso questa situazione purtroppo è una scossa all'ambiente. Purtroppo va data una scossa all'ambiente ragazzi perché ormai è l'unica cosa che si può fare. Voi sapete che ho sempre difeso Allegri, continuo a dire che per me non è solo colpa sua perché abbiamo dei giocatori che secondo me ormai con la Juve non hanno più niente a che fare. Mi riferisco a Quadrato e a qualcun altro perché si vedono proprio degli errori in matornali. però non vuoi cambiare i singoli in questo momento. Quindi per me l'unico modo per dare una scossa all'ambiente è cambiare l'allenatore. Dispiace perché ripeto per me la colpa non è solo dell'allenatore. Ci sono un sacco di problemi in questa squadra però va data una scossa nell'immediato perché non ci riprendiamo più ragazzi. Giochiamo 20 minuti e poi stacchiamo la spina e questa è una cosa che non può andare. Assolutamente non può andare. Quando andiamo in vantaggi i primi minuti manco risulto più perché per me so che soffrirò tutta la partita. Quindi ragazzi poche parole va data una smossa all'ambiente. Una partita del genere stasera la devi vincere per in vantaggio parti bene e alla fine me la perdi vuol dire che c'è qualcosa che non va più ragazzi. Quindi per me da stasera va data una scossa all'ambiente. Cambiare Allegri sarà giusto, sarà sbagliato. Per me adesso purtroppo è l'unica cosa che puoi fare perché questa squadra se non dai una scossa adesso questi non si riprendono più. Quindi se vogliamo salvare ancora la stagione bisogna cambiare in questo momento. Per me lo dico diciamo a molinguore perché per me non è solo colpa del mister. Però è l'unico modo per dare una smossa all'ambiente. Quindi ragazzi poche parole. Una partita come stasera la devi vincere assolutamente. Tu vai in vantaggio parti bene poi ringraziamo Perin se non ne prendiamo quattro. E questa è una storia che non può andare più avanti. Questa è una storia che non può andare più avanti. Siamo la Juve, dobbiamo riprenderci. Ripeto, purtroppo per me l'unico modo per dare una scossa a quest'ambiente è lo dico a molinguore perché ragazzi io so che non è solo colpa del mister. Però è l'unico che secondo me in questo momento paga. Dare una smossa all'ambiente cambiando l'allenatore per me adesso è una cosa che serve. E ripeto, lo dico a molinguore. Poi vedremo cosa farà la società. Però così non ci siamo ragazzi. Assolutamente, assolutamente. Detto questo ragazzi poche parole perché è una serata che devi vincere appunto e non può andare così. Qui va data una smossa all'ambiente nell'immediato. Nel frattempo vi auguro una buona serata e sempre fino alla fine.